Il sottoscritto si fa odies, d'altronde io sono il soggetto e questi sono delle ombre di merda, ma non conoscono gli articoli penali di legge, esempio il 494, la sostituzione di persona, o per esempio il 595, la diffamazione, o ancora peggio il 612, lo stalking, perché lo stalking non è configurato solo quando voi andate sotto casa della vittima, ma anche continuando a perseguitarla a livello mediatico. Quindi, cari signori, io lunedì ho un secondo incontro col commissario di pulizia, dove col mio avvocato Paolo Mastro Simone abbiamo già presentato delle denunce penali, due persone sono già state identificate e ce ne serve ancora una. Io, signori, non ho fretta, io la resa su TikTok non ve la darò mai, sappiatelo, perché ho già altri profili pronti, resto qua alla faccia vostra, resto qua, vi faccio soffrire fino alla fine, però io vi voglio beccare, uno ad uno, e lo faccio. Io non mi reputo una persona buona, ma quando vi avrò chiesto quei piccoli spiccioli di danni, non pensate che finisca lì con me, perché voi al dolore fisico lo dovete provare con me, perché solo con quello può riportarvi l'ordine e la disciplina. Se vostra madre non ve l'ha insegnato, vi assicuro che avete trovato la persona più sbagliata e più crudele per farvela pagare.